Il sindaco cosa prevederà l'ordinanza per il Natale? De Luca ha già parlato di restrizioni, lei cosa intende fare? Abbiamo un tavolo in prefettura, venerdì chiuderemo, noi cercheremo di fare in modo che ci sia un controllo per evitare un eccessivo affollamento soprattutto dei luoghi simbolici dove anche dalle esperienze degli anni scorsi sappiamo che c'è eccessivo affollamento.